Buongiorno a tutti. È dei giorni scorsi la richiesta da parte di Coldiretti di reintrodurre i voucher, un'iniziativa che potrebbe portare a un rilancio dell'occupazione, soprattutto nel sud che ha bisogno di braccianti per lavorare in campagna. L'associazione però ha ricevuto dal governo un netto no. Altra idea intelligente sarebbe quella di utilizzare i furbetti del reddito di cittadinanza. Accanto a situazioni di estrema miseria esiste tutto un mondo di fancazzisti dalla prima ora che hanno salutato con champagne la grande trovata dei pentastellati. Fra l'altro sempre i pentastellati ci avevano raccontato che questi personaggi sarebbero stati contattati dalle agenzie del lavoro per proporre loro varie disponibilità occupazionali. Non se ne è saputo più nulla. Nel frattempo le cronache ci hanno raccontato di gente che spacciava, viveva in case di lusso, possedeva automobili di grossa cilindrata, tutti disoccupati a reddito zero. Bene, ora c'è questa grande occasione di riscatto, un sano e utile lavoro nei campi, a contatto con la natura. Ma sappiamo bene come andrà a finire, non se ne farà nulla. Braccia rubate all'agricoltura. Qualcun altro però sostiene che nei campi a lavorare ci dovrebbero andare certi ministri insieme al loro codazzo di esperti e burocrati. Mao Tse Tung, il grande timoniere, lo aveva fatto nella Cina della rivoluzione culturale. Non so se è un esempio da imitare. Un dato però è certo. I primi che ci hanno aiutato con medici, mascherine e ventilatori sono stati proprio i cinesi. Vorrà dire qualcosa. L'alimentare è vivo e lotta insieme a noi. A domani.